Oh, questo panino è delizioso! Ehi, come va? Dammi qua! Io invece prendo questo! No, il mio suco d'arancia! Questo è quello che ti meriti, Babbeo! Ragazzi, giochiamo un po' a calcio! Ehi, Dibiu! Ora lo vado a riprendere! Oh, cosa abbiamo qui? Ehi, mi passi la palla! Ma certo, prendi! Oh, poveretto! Ops, non volevo! Stai bene, Piu! Ah, è proprio una brutta giornata! Oh, cavoli, sono irritato! Che fai? Ti nasco tu? Entra in classe subito! Non c'è bisogno di farmi del male! No, sto bene! Blue, dimmi la soluzione a questa domanda! Ehi, io? Che cosa fai? Mi prendi in giro? Mi spiace, non so cosa sia successo! Non credo di sapere la risposta, però! Ehi, dico, in marcia! Oh, ma certo! Vediamo! È corretto così, professore! Ma che certo che no! Ehi, basta, uffa! Uffa, che scato! Hai dovinato un po' un ragazzo? Un pesto sul pello! Ma che cavolo! No, non ce la posso fare! Non ce la posso fare proprio! Ok, ce la posso fare! Dammi qua! Chi mi ha preso la matita? Io ne ho una extra! Forza, prendi qua dalla lui! Ecco a te, amico! Eh? Oh, una matita! Approfitto del fatto che nessuno mi vida! Fatto! Uff, ma è difficile! Non ce l'ha mai insegnato! Penso di aver finito! Sì, è stato facilissimo! Ah! Blu! Ehi, amico, dai! Ti dobbiamo disposta! Forza, scrive! Scrive, scrive tutto! Grazie, grazie, grazie! Cosa sono tutti quei rumori? Ci è mancato poco! E all'ultimo! Molto bene! È così che si fa! Bravo, molto bravo! Odio la scuola! Hai non dimenticato questo! Ehi, ma che fanno quei due? Non è giusto! Sono sicuro che all'insegnante non ti acerrà! Vai! Ehi, che pensi di fare con gli astro? Prendi questo! Vai! Pensavi che non ti avrei visto? Così, vuoi fare a botte? Prontissimo! Banda di smidollati! Tutto in punizione! Tempo scaduto! Consegnate i vostri fondi! Vediamo, vediamo! Cosa? Oh, cos'è questo cartonato? È papà! Ma è papà! 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 Figliolo, dove guardi? Guarda che sono qua! Oh, d'ora sono confuso! Oh, piccolo, non piangere! Vieni qui! È ora di giocare con i tuoi amici dell'asilo! Eh, dai! Ma io non voglio! Dai, sarà divertente! Altrimenti ti viene a prendere! Oh, no! Ehi, amico! Vai a giocare! No! Guarda il mio lecca-lecca! Wow, guarda quanto è grande è quell'lecca-lecca! Dammena più sulle mie luci! Oh! No! Guarda cosa è fatto! Oh, no! Devo andare a riprenderlo! Buono, adoro! Andiamo, gente! Crediti davvero a quel mostro! Oplà! Prendo! Che credi di fare tu? Oh, il piccolo vuole lecca-lecca! È mio ora! Ehi, ridammelo, maledetto! Oh, no! Lo farò secco! Torni qui, maledetto! Ehi, ma che succede qua? Chi è questa gente? Per favore, no! Troppo tardi! Ehi, ecco il mio lecca-lecca! Vieni qui, maledetto! Eh? Ma dove è finito? Ma... Via, 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 via! Che faccia! Ehi, torna qui, dai! Per favore, facciamo solo per giocare! Oh, un piccolo cieco! È la tua fine! Di le tue ultime preghi a... Eh? Certo, sei pieno! Ragazzi, siete i migliori! Ma io sento sempre! Forza, dobbiamo andarcene prima che qualcun altro ci becchi! Oh, è stato pericoloso! Ehi, guardatelo! Oh, no! Nessuno potrà toccare questi bracciumi! Aspetta, ma sì! Cavoli, sono costositi! Hmm, pensiamo a com'è! Eh? Una torcia! Oh, mi è venuta un'idea! Sono impassibile! Oh, cos'è quell'ombra gigante? Non farmi del male! Sì, che conviene scappare! È stato divertente! Ah, sì, è bello! Un altro buro, ragazzi! Forza, prendiamoci di tutti! Cosa pensate di fare? Pensavate davvero di fregarmi così? Non scapperebbe tanto facilmente! Oh, no! Mi hai preso! Sei uno spazio, bamboccio! E sappiate che non ci casco due volte! Cosa credi di fare? Oh, io, beh, ecco, io stavo per dire che volevo... Volevo avanti! Eh, no! Non vuol dire! Ben fatto, ragazzi! Amma, mamma, mamma, mamma! Che stai facendo? Torna al tuo lavoro! Ah, Uffi, va bene! Cavolo, sono tutto dolore! Oh, è il mio amico Blu! Ma perché l'hai fatto? Mi hai fatto, Viola! Prendi esempio da lui! Uffa, sono tutti maleducati! Come mi trattano male! Mi trattano tutti quanti come una pezza da piedi! Oh, sarà arancione! Eh, amico, fuori dai piedi! Ancora! Perché non sei attento, Blu? Hai quasi causato un incidente! Ah, mi dispiace, non ti ho vista! Le cose mi fanno solo stocche! Non sono cose che mi riguardano! Vedi di tenere gli occhi aperti, ok? Oh, nessuno interessa come mi sento! Sono stanco! Vorrei che qualcuno mi aggiustasse! Oh, arriva qualcuno! Chi è l'ho? No, per favore, non farmi del male! Ma che dici? Non ti farò del male, dai! Non ti piace solo che pensavo che... Dai, sui dai, siete amico! È tutto ok! Davvero! Ora vediamo di aggiustarti, ok? Oh, amico mio! Mi piacerebbe! Ma non c'è nulla che tu possa fare! Ancora uno e... E' fatto! Arriva qualcuno! Povero blu, non si meritava tutto questo! No, no, devo scopermi subito! Aveva sempre un sorriso così travolgente! Ti prego, non farmi del male! Eh? Ma cosa fa? Spero tu possa trovare la felicità ovunque tu sia! Ehi, stai bene? E vedi, il mio migliore amico... Oh, non preoccuparti, andrà tutto bene! Ti aiuterò io, d'accordo? Dici... Sul serio? Assolutamente! Modestamente sono bravo ad aggiustare le cose! Allora, vieni con me, ti faccio vedere meglio! Eccolo, è proprio lì! È scomparso qualche minuto fa! Ah, ma guardatelo! Lo so, non si sveglierà mai più! Non dire così! Mi è venuta un'idea! Quasi fatto! Eeeh, 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 hopla! Vedere per credere! Wow, ci è voluto poco! Ora ci serve solo una batteria nuova e del cibo per rianimarlo! Cosa pensate di fare? Allontanatevi dalla mia creazione! Attento, ti salvo io! Oh no, amico! Eh? Ma certo! La chiami inglese! Come osi colpire me, il grande scienziato rosso? Eh? Ci sono quasi... Preso! Ok, amico, dammi solo un minuto e... No! Lasciami! Questi non sono affari tuoi ed è per questo che ti fererò! Volevo solo salvarlo! Che cosa hai fatto tu, invece? Oh, ma per favore! Cos'è? Ti credi più sveglio di me? Eh? Forza, dirlo! Lascialo stare, bruttone! E quello... Scusami, Blu! Pensavo volessi farti del male, te lo giuro! Tutte bugie! Pagherai per quello che hai fatto! E non scocciare più! Ecco, ecco! No! Grazie, Blu! Stavo morando di fame! Delizioso! Porca vacca! Grazie per avermi sistemato! Sono in debita con te! Abbraccio di gruppo! Questo posto è così sporco! Ehi, state attenti! Ehi, state attenti! Oh, oh! È buona stupenda! Arancio! Ehi, besta consecchiare! Arriva il professore! Buongiorno, studenti! Bene, oggi abbiamo la lezione di salsa! Bene, mostrami come fare! Oh, non la sai! Prova questo! Forza, stai compitando! Sei in punizione! Forza che sei! Tocca a te! Forza, fammi vedere! Ok, vediamo! Non è successo niente! Aspetti, provo così! Ultimo tentativo! Oh, no! Che succede? No, no, no! Ancora no! Io la forza a toccare! Come vi ho insegnato! E' proprio che qualcuno non fosse attento, eh! Eppure era semplice! Io ci riuscirò sicuramente! Ops! Mi è caduto! E ora, mentre nessuno guarda! Oh, cavolo, ragazzi! E' stato enorme! Oh! Cosa ho fatto? Sono stanco di tutte queste... Oh! No, è tutto sbagliato! Ora la trasformo in un bel paninazzo! Oh! Non è buono! Beh! Beh, quanto mai sarà difficile! Oh! 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 Guardate, ragazzi! E' bravo lui! Non è buono! Oh! Oh! Aspettate, non era quello che io... Ma cosa... Ma che fa? No, 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 no! E adesso... La lezione è finita! Eh! No, 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 no! Ehi! Ehi! Che cos'è? Figo! Aiutami! Cosa vuoi da me? Meglio fuggire! No, aspetta, non fuggire! Cavolo, giocatore, ma non mi riconosci? Sono io, blu! Addio! No, grazie! Addio! E questo lo mettiamo qua! Ma che... Ehi, là, ciao! Oh, no! Devi aiutarmi! Ti prego, lasciami andare! Ehi, perché scappa? Ehi, amico, perché stai piangendo? Se ne è andato via! Non preoccuparti, ci sono io qui per te! Eh? Si stanno abbracciando? Ho bisogno di compagnia! Mi sento solo, tanto solo! Ah? Oh, ehi, blu! Guarda, ho una sorpresa per te! Ma non riesco ad afferrarlo! Ah, non preoccuparti! Troveremo una soluzione per... Ce l'ho io la soluzione! Eh? Di le tue ultime preghiere, perché sto per eliminarti! Io non penso proprio! Pescati questo! Ma per favore, prendi questo! Oh! Non te la caverai così facilmente! Ah, no! Questo è quello che succede a chi osa sfilarmi! Ahahahah! Che giornata! Ora vado! Ho di meglio da fare! Cavoli! Ma che tie me ne succede? Ragazzi, mi spiace! Avrei dovuto aiutarmi! Eh? Giocatore! Aspetta, forse qualcosa si può fare! Ehi, Arancio! Perché non mangi un po' di questi? Cavoli, sono molto deboli! Verde, tu ne vuoi un po'? No! Non ti avvicinare! Eh? Perché fanno così? Ehi! Me lo mangio io! Ecco, prendi! Oh, no! Blu! Ma cosa vi è successo? Forza, parla! Blu! Cavoli, non so cosa fare! Ma non mi arrenderò così facilmente! Eh? Delle macchie di vernice? Non è che vengono da... Ah, ah! Finalmente! Ora il colore delle loro anime! È il momento di... Ehi, Lai! Che chi è stato? E questi li prendo io! Ehi, dove sono i miei colori? Non sono i tuoi! Torna qui! Devo uscire da qui! Ecco cosa succederà! Ora me li ridai tutti quanti, io te ne pentirai! Non ci penso nemmeno! Ok! Salutami gli altri in paradiso! Fermati subito! Non ci provare nemmeno! Ragazzi, oh! Siete voi! Bene! E ora, bello mio, occhio per occhio... Cosa? Oh, oh! Ah! E ora di tornare normali! Non preoccupatevi, ragazzi! Faccio da me! Questo deve essere il mio! Guarda, ci siamo! Ora tocca a me! Ahahahah! Lascia che ti aiuti, amico mio! Eh? Io sono vivo? Sì, evviva! Sono di nuovo colorato! Ragazzi, sono veramente dispiaciuto! Vi prego! L'unica cosa che mi importa ora è riavere il mio colore! Vi prego! Abbiate pietà! Sì, ho proprio una soluzione per lui! Ma certo! Ma questo non è il mio colore! Ah, tutti questi cubi sono miei! Ma quello è blu! Ah, se solo ci fosse qualcuno con cui... Oh no, c'è il mostro Moxiboo! Ciao, amico! Enorme! Ehi, posso toccare con... Aspetta! Io non voglio farti del male, Te lo giuro! Questa cibo deliziosa è tutto mio! Ehi, bello! Che ne dici di condividerne un po' con me? Ti prego, ti prego! Vuole ucidermi! Mi farà peggi! Ti prego! Non farlo! Ti prego! No, io non voglio farti del male, te lo giuro! Ho soltanto fame! Mamma mia! Ma cos'era quel tuono? Guarda! Una scimmietra testa! Oh! Mi ha fregato! Va bene! Allora le mangerò da solo! Oh, è quello verde! Ai ai, che botta la testa! Mi spiace, io non volevo... È inutile provarti, si spaventerà anche lui! Avanti, alzati! Dici sul serio? Beh, sì, certo che sì! Non hai intenzione di prendermi in giro, vero? Assolutamente no! No, te lo giurassico! Ti sarei confuso per via della botta ricevuta! Boh, sarà così! Dov'è quel mostro maledetto? È vivo! Boxing Boo è vivo! Dove? Dov'è? Tutto va a secondi piani! Ehi, ma che succede? Buona gabbia! No! Che divertente! Eh, l'hai sentito? Erano gli altri! Deve essergli successo qualcosa! Spero stiano bene! Buo! Ehi, cosa pensate fare, gli amici? Lascia che te lo mostri, stupido vostro! Così impari! Mi chiedo cosa stia succedendo! Oh no! Maledetto rosso! Chi ti credi di essere? Cosa vuoi te? Fate gli affari tuoi! No, non ci penso nemmeno! Ora vedrai! Oh no, è davvero arrabbiato! Oddio! È stato divertente! Amico, tutto bene? Ehi, penso di sì, dai! Oh! Qualcuno può liberarci! Grazie! Ci ha salvato! Scusaci per come ci siamo comportati! Sei buono dopo tutto! Ora siete liberi! Abbraccio di gruppo! Amore mio! A cosa stai pensando? Quella ragazza deve essere mia! E lo diventerò grazie a questi! E ciao! Io ho un pezzerino! Ho un pezzerino per te! Che romantico! Davvero un gesto carino? Cosa? Io non accetto un gesto simile! Dammi qua! Ehi! Ah! Ma perché? Io sono veramente dispiaciuto per quanto è accaduto! Non è colpa tua! Cosa succede? Qual è il problema? Niente, niente! Ti amo! Che comportamento bizzarro! Proviamo in questo modo qua! Guardate! Eccola lì! Spero che mi trovi qui! Eeeh! Opla! O la va o la spacca! Cos'è questa? Immondizia! Lasciala in pace! Non le piacerai mai e poi mai! Ma dov'è finita? Foxy! Eeeh! Questo è per te! Eeeh! Delizioso! E il mio cuore? Addio! Non andare! Non andare! Perché non stai un po' con me? No! Ho altro da fare! Vedi di fare altrettanto! Eeeh! Ehi! Sei... Eeeh! 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 Oh! Ma... Ecco qua! Eeeh! Per te! Che bello! Eeeh! Che buono! Posso chiederti cosa ci fai con uno come lui? Eeeh! No! 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 Mi dispiace! Devo andare! Eeeh! 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 Che cos'è? Una lettera? Dov'è finita mo? Eeeh! Oh! Eeeh! Ancora? Eeeh! No! Io non te lo dico più! Ci siamo capiti? No! Non è come pensi! Femmina, stai giocando col fuoco! Lo sai? Oh no! Eeeh! Eeeh! Basta così! Eeeh! Ti salvo io, Voxy! Eeeh! Eeeh! Ma che diamine! Non osale! Vuoi fare a botte? Fatti su! Eeeh! 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 Ma che succede? Oh! 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 Ragazza! Mi hai salvato! Sono così contenta! Eeeh! 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 Che succede qui? Forza dovrebbe essere qui! Secondo te il cupo dovrebbe essere proprio qui! Eeeh! 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 Ragazzi! Eeeh! Aspettatemi! Cosa stai aspettando? Catturali tutti! Eeeh! Eeeh! Dove saranno andati? Ragazzi! Eeeh! 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 Mi spiace ragazzi ma sono costretta a farlo! Non prenderai i miei amici! Eeeh! Prendi questo invece! Dovrai combattere contro di me! Dietro di me! E ora fuggite! Eeeh! Eeeh! Aspetta! Non puoi sfuggirmi! Possiamo parlarne! Eeeh! Nooo! Ok! Chi è il prossimo? Vieni a prendermi se hai il coraggio! Oh! Sembra che quel tizio voglia proprio morire! Oddio! Eeeh! 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 Sbrigati! Tanto non mi prendi! Vieni qui! Ti piace inseguirmi, eh? Peccato che tu sia troppo lento! Cos'è che dicevi? Devo fare il piano! Ti prego, salva gli altri! Sai, vorrei ristare, ma... Ehi, terra qui! Che fai, spaparanzato là? Alzati e vagli dietro! Muoviti! Ce la posso fare! Le catturrano tutti! Cercavi questo? Forza, vienetelo a prendere! Dietro di me! Che gusto strano! Ce l'abbiamo fatta, amici! Ottimo lavoro di squadra! Devo riconoscerlo! Avete fatto un ottimo lavoro! Dai, amico! Perché ce l'hai così tanto con me? Vattene via! Ok! Nascondiamoci qui, dai, forza! Dove sei nascosto, giocatore? Sento il tuo odore! Dai, giocatore, non fare rumore proprio ora! Ehi là! Eh, non mi sembra che sia qui! Cavolo, c'è mancato pochissimo! Ho avuto decisamente fortuna questa volta! Cosa stavi dicendo? Oh no, è quello veloce! Oddio! Torna subito qui! Nessuno può sfuggire da lancio! Nemmeno tu! Eh? Da quella parte! Speriamo che questo lo distragga! Delizioso! Uh, ci è mancato di nuovo poco due! Eh? Ma che diavolo! Ehi, giocatore! Puoi giocare! Non farmi del male! Non sono neanche qui! Ehi, ma dov'è andato? Boh, vabbè, andrò a cercarlo! Che fifa! Però sono libero! Eh? Non prenderti la mia anima! Ti prego! Non voglio farti del male! Devi credermi! Davvero? Davvero, davvero? Sono una principessa rosa! Non lo vedi? Ok, devo trovare dei cubi per finire la mia collezione! Sono contenta di aiutarti! Ssh! C'è Blu lì! Io lo distraggo! Tu prendi il cubo! Ottimo piano! Ehi, Blu! Che combini? Sta parlando proprio con me! Ehi, Rosa! Sei tu! Che ci fai da queste parti? Oplà! Eccone un altro! Ed anche l'ultimo! Eh? Non così fretta! Pensavi di fare il pubo? Lasciami così, ma andiamo a tutti il piano! Oh no! Ehi! Non fargli del male! Ehi, io? Ma che succede? Boh, non l'ho capito! C'è qualcosa che puzza! Ascolta, vattene prima che ti scopra! Va bene! Ciao ragazzi! Ci ho pensato io! Adesso non ci romperà più le scatole! Ne sei proprio sicura? Beh? Perché mai dovrei mentire? Io lo so che stai mentendo! Ma che state dicendo? Ne sei proprio sicura, sicura! Oh no! È ancora vivo! Ci hai mentito! Forza, finisci quello che hai iniziato! Io li distranno! Grazie mille per tutto! Mi raccomando, abbi cura di te! Perché stai agendo contro di noi? Adesso la pagherai! Forza giocatore! Fa che il suo sacrificio non sia stato vano! Ma... Starà bene! Santo carciofo! Ma è fortissimo! Si va a rimettersi contro una principessa rosa! Wow! Giocatore! Non pensavo che fossi così forte! Ben fatto, giocatore! No, Blu, ti prego! Non farlo! Farò qualsiasi cosa che vorrai, te lo giuro! Giocatore! Tirami il cubo! Puoi farcela! È finita per te! Che cosa? Ah sì, il cubo! Prendi! Ah, l'impatto! Non mi sembra che abbia funzionato! No, aspetta! Eh, ma dove è andato? È sparito! Che strano! Ma cos'è questo posto? Che cosa succede? Ciao ragazzi e benvenuti al prossimo livello! Nel prossimo livello dovrete ricaricare il dispenser di cibo! Sarà divertente! E ora andate! Che cos'è? Cibo per cani! E i dispenser dove stanno? Andiamo a cercarli! Forza! Cattura quegli stupidi giocatori per me! Sì, signore! Subito! Divertiti! Tutto come pianificato! Dove potrebbero essere? Dove potrebbero essere? Trovati! È stato facile! Sì, ho trovato quello giallo! Ancora uno e qui direi che abbiamo finito! Wow! Qui ce ne sono addirittura tre! Chissà se posso prenderli tutti! Scherzo! Ovviamente arrappo tutto! Oh no! È blu! Eccoti qua! No, ti prego! Ragazzi! Qualcuno dei otti! Cercavo proprio te! Ufa! Ma dove è sparito? Che strano! Comunque! Se ne è andato? Mamma mia! Per un soffio! È meglio correre! Dove pensi di andare? Cettino! Oh no! Sono in trappola! E ora dove fungo? Speriamo che funzioni anche con lui! Pensi che sia cosa stupida! Mi spiace per te! Ma è senso io! Dove sono tutti quanti? Eh? No! Non osare toccare il mio amico brutto! Mostra! Forza! Andiamo! Oddio quei giocatori! Ci siamo quasi! Sta arrivando! Sono qui! Non pensarci nemmeno! Mi mangerò tutti i ciali! Ok! Va bene! Va bene! Ce l'ho fatta! Sì! Sono scompati! Faccerò quasi! Cavoli! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Siamo riusciti! Ottimo risultato! Ora, vedete questa lampadina? Dovete trovarle tutte! O verrete divorrati dai mostri! Altre sfide! Inizio a essere stanco! E che altro possiamo fare se non giocare? Forza! Andiamo avanti! Andiamo! Andiamo! Vedi di riuscire almeno te! Sì! Sì! Non voglio vederli vivi! Ehi ragazzi! Ho già trovato il primo! Easy peasy! Dove potrebbero essere? Oh! Eccone uno! Che bello! È stato facilissimo! È una lampadina quella! Beh! Speriamo! Meglio andare! Penso che le abbiamo prese quasi tutte! Ok! Attacchiamole! Ecco qua! Però ce ne manca ancora una! Forse so dove potrebbero essere! Dobbiamo stare insieme! Aspetta! Ecco quella che mi mancava! Aspetta! Voglio farlo io! Ma... Eh va bene! Prendila te! Sì! Finalmente! Eh? Santo carciofo! Arancio qui vicino! Trovata! Stammi lontano! Cavoli! Che paura! Ne vuoi uno? Sì! Ti prego! Beh! Prendi! Ma non vuoi! Bravo piccolo! Chissà dove è andata! Ah non lo so! Corri come il vento! Tu sai! Ragazzi! Ce l'ho fatta! Ce l'hai fatta! Brava brava! Che l'avrebbe mai detto! Maledetti giocatori! Bene! Ma vi mancano ancora le batterie però! Bene! Possiamo farcela! Sì sì esatto! Andiamo! Oh! Fana! Lasciatemi solo! Vediamo! Oh! Ne ho trovata una! Trovata pure io! Ehi! Queste batterie sono mie! Ma ora che faccio? Pensa! Pensa! Oh! Oh no! Ehi! Che combinate qui dentro? Vi siete rotte di giocare! Lasciami! Grazie di giobbio! Ce l'abbiamo fatta amici! Le abbiamo tutte! Ce le abbiamo tutte! Oh! E così pensate di aver vinto? Vediamo se sopravviverete a questo! Ah! Oh! 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 E non possiamo parlarne! Ah! Non c'è più nulla! Salvevi adesso! Ragazzi! Un trappolino! Usiamolo e andiamo verso l'uscita! Forza! Seguitemi! Oh! Non vai da nessuno! Dobbiamo fare qualcosa! Stupido mostro blu! Prendi questo! Forza! Dobbiamo andarcene! Lo so! Qui siamo al sicuro! Povero giocatore! È stata una sua decisione! Si è significato per me! Ehi ragazzi! Guardate chi c'è! Oh! Sì! È ancora vivo! No! Forza ragazzi! Un abbraccio di gruppo! Un abbraccio di gruppo!